Ben ritrovati a tutti sul mio canale, oggi vorrei dire due parole su Franco Fantasia e Sal Borgese. Come detto in precedenza, Fantasia interpreta Vassile, mentre invece Sal Borgese interpreta Garmux. Entrami sono a servizio Garmux del Corsaro Russo, mentre invece Vassiler del Corsaro Verde. Entrami passeranno a servizio del Corsaro Nero, quando il Corsaro Verde e il Corsaro Russo verranno assassinati dalla mano omicida del Duga di Van Gould. La cosa che balza all'occhio è questo rapporto di intese di amicizia che si saura tra Garmux e Vassiler. Fantasia e Sal Borgese torneranno nel 77, nella tria ancora viva, stando con la riscossa, in cui Fantasia interpreta il colonnello inglese a soldo di James Brooke, mentre invece Sal Borgese interpreta Kammamuri. Su quest'ultimo Kammamuri torneremo nei prossimi video. Grazie per l'attenzione e restate aggiornati.